Siamo con Ferdinando Vito Francesco al termine di Feralpisola Alessandria 2-3. Eravate sotto 3-0 ma come in altre occasioni in questa stagione siete riusciti quantomeno a cercare di diminuire il gap. Adesso c'è un altro atto ad Alessandria mercoledì sera. Non è un'impresa impossibile? No, è impossibile perché siamo capaci di fare tutto noi, quindi siamo una squadra imprevedibile. Come abbiamo preso 3 gol l'abbiamo fatti subito 2, quindi non meritavamo di prendere 3 gol così sul 3-0 perché abbiamo fatto noi la partita. Però è andata così e cercheremo di fare questa impresa ad Alessandria perché ne siamo capaci e tutti quanti ci crediamo. Siete andati sotto nel risultato praticamente dopo pochi minuti per una punizione di Gonzalez però avete dominato il primo tempo. L'Alessandria nella ripresa ha fatto altri due gol, forse in quel momento è scattato qualcosa l'orgoglio. Che cosa è successo? Sì, beh certo l'orgoglio è scattato sicuramente. Abbiamo concesso anche qualche occasione a loro perché ci siamo sbilanciati, perché volevamo riaprirla. Ci siamo riusciti. Livieri ha fatto delle parate straordinarie, quindi ci ha tenuto a galla il risultato. e quindi andiamo lì con un tra due sperando in una bella impresa.